Ciao a tutti ragazzi, come state? Oggi Luca non c'è perché è impegnato e mi ha chiesto di parlarvi. Intanto grazie come sempre per i vostri messaggi. Sono arrivate un po' di vostre risposte al personaggio misterioso. Ecco cosa avete risposto. Come avete visto, ci sono un sacco di risposte diverse. Ma prima di scoprire di chi si tratta, vi mando i saluti di Roberto Educatore ed Eleonora con la speranza di rivederci presto. E adesso finalmente andiamo a scoprire chi è il nostro personaggio misterioso. Ciao ragazzi, come state? Spero da voi vada tutto bene. Vi speriamo anche di rivederci presto. Ciao ragazzi, come state? Spero da voi vada tutto bene. E speriamo anche di rivederci presto. Ciao ciao! Non ve lo aspettavate vero? Bravissima Alessia che hai indovinato. Ci vediamo presto con un altro video. Alla prossima!